Oggi parliamo della differenza tra numeri naturali e numeri relativi. Allora, i numeri naturali sono quei numeri che si possono disegnare ipotizzando una linea orizzontale, una semiretta munita di origine ma non munita di fine poiché è infinita appunto, e questi si possono disegnare a partire dal numero 0 verso più infinito nella seguente modalità. Essi sono numeri interi di segno positivo ed infiniti, proprio perché hanno un punto di partenza, un numero di partenza, lo 0, ma non hanno un numero di arrivo. Essi sono infiniti, purché, ripeto, siano interi e di segno positivo. D'accordo? Questi sono i numeri naturali. Perché numeri naturali? Proprio la parola natura, naturali, ci indica che essi sono i numeri comuni, quelli che usiamo per calcolare, i numeri più semplici, i numeri più pratici che usiamo nella vita quotidiana, i numeri interi, positivi, con i quali nel quotidiano noi, diciamo, ci applichiamo per operare con la somma, col prodotto, con la moltiplicazione appunto, con la divisione, con la differenza. D'accordo? Ecco, questi sono i numeri naturali. I numeri relativi, invece, sono quei numeri che possono essere identificati con una linea orizzontale che però è costituita da due semirette orientate, una diretta a più infinito, così come nel caso dei numeri naturali, ed una diretta a meno infinito. Questo perché? Perché i numeri relativi contengono al loro interno sia i numeri naturali, quindi i numeri interi positivi ed infiniti, che iniziano da zero e terminano a più infinito, ma allo stesso tempo al loro interno possiedono anche i numeri interi di segno negativo. E partono da zero e tendono a meno infinito. D'accordo? Quindi i numeri naturali sono i numeri interi di segno positivo ed infiniti, i numeri relativi sono i numeri interi, infiniti, sia di segno positivo che di segno negativo. Per concludere dunque possiamo dire che i numeri naturali sono un sottoinsieme dei numeri relativi, proprio perché i numeri naturali sono inclusi all'interno dei numeri relativi, d'accordo? L'insieme N dei numeri naturali è incluso all'interno dell'insieme dei numeri relativi.